Sera Presidente, onorevoli senatori, gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione sull'effetto dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus Covid-19, con particolare riferimento alle condizioni dei cittadini stranieri regolari già presenti nel nostro Paese, chiedendo di valutare l'adozione di un provvedimento straordinario che consenta la regolarizzazione e l'emersione dal lavoro nero. Come noto, già in passato sono state introdotte specifiche disposizioni di legge che hanno permesso l'emersione di rapporti di lavoro irregolare. La materia delle regolarizzazioni è emersa anche nel dibattito parlamentare in occasione della conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020 numero 18 e confluita in due ordini del giorno, approvati dal Senato e dalla Camera, coinvolge diversi profili che vanno dalle esigenze del mercato del lavoro all'emersione del lavoro nero, agli aspetti relativi alla tutela della salute e della legalità. L'esperienza maturata con provvedimenti normativi adottati in tale ambito a partire dagli anni 2000. Si pensi al Decreto Legge 195 del 2002, al Decreto Legge 78 del 2009, al Decreto Legislativo 109 del 2012. Ha visto platee differenziate perché i requisiti di volta in volta richiesti riguardavano differenti tipologie di stranieri e di rapporti di lavoro considerati per l'emersione. Anche il CNEL ha posto specifica attenzione sul tema con l'approvazione di un ordine del giorno del 14 aprile, con cui sollege il Governo a varare una misura di emersione a favore degli stranieri regolari per tutelare la loro salute e l'igiene pubblica. L'obiettivo è quello di raggiungere, tanto più in un contesto come quello attuale, un punto di equilibrio che con il concorso di tutti gli interlocutori istituzionali coinvolga e garantisca le esigenze del mercato del lavoro e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Con i ministri Belanova, Provenzano, Catalfa abbiamo lavorato per mettere a punto un'ipotesi di intervento normativo che, sulla base delle precedenti esperienze, consente la possibilità di concludere un contratto di lavoro subordinato per chi è impiegato o lo è stato in modo irregolare nella filiera agricola, della cura alla persona e del lavoro domestico. L'emersione del lavoro nero riporterebbe ad una condizione di legalità una realtà che riguarda quei lavoratori che di fatto sono impiegati nei campi come braccianti e nelle nostre case come colp e badanti. Appare evidente dunque come l'intenzione del Governo e del Ministero dell'Interno sia quello di garantire ancor più nel contesto emergenziale che stiamo vivendo la dignità delle persone, la sicurezza sanitaria, la tutela della legalità e le esigenze del mercato del lavoro. Grazie.